Sveglio per un attore è tosto, la mattina è tosta in generale, è da eliminarlo, però è una delle cose belle, una delle ragioni per cui si fa il teatro, gli orari, cioè uno sforzo a volte anche violento, la sera, ma insomma tre ore così e poi niente, non facciamo niente, la mattina ci svegliamo verso le due, una colazione abbondante, poi una pennica, subito dopo, io consiglio a tutti di fare gli attori, che sta da fare gli ingegneri, braccianti, politici, ma siete amati, questa è una vita straordinaria, non facciamo letteralmente niente, poi dopo verso le 5 vengono con delle macchine bellissime, ci prendono, ci portano in un posto, ci mettono su seggioline con scritto il nostro nome, poi arriva uno delicato che ci massaggia la cute, ci trucca come bambole, munieca, se l'attore è su una munieca.